L'amore a Cristo, l'amore alla Chiesa e l'amore all'uomo. Queste tre parole sono atteggiamenti fondamentali, ma anche appassionati di Paolo VI. Esordisce così Papa Francesco davanti a più di 5.000 pellegrini arrivati in Vaticano dalla diocesi di Brescia per il cinquantesimo anniversario dell'elezione di Papa Montini, che proprio nel Bresciano era nato il 26 settembre 1897. Papa Francesco cita più volte le stesse parole di Paolo VI, che mettono in rilievo, sottolinea Bergoglio, il suo amore per Cristo. Cristo, sì, io sento la necessità di annunciarlo, non posso tacerlo. Egli è il revelatore di Dio invisibile, è il primogenito di ogni creatura, è il fondamento di ogni cosa. Credo che quello che ha ricordato adesso Papa Francesco siano le cose fondamentali. È stato un pontificato appassionato, con una capacità di esprimere un amore grande nei confronti di Gesù Cristo, della Chiesa e dell'uomo. Le cose che ha ricordato del Concilio sono significative. Il fatto che il Concilio abbia presentato, annunciato il Vangelo, senza scomunicare nessuno, senza avere atteggiamenti di risentimento, è il segno di uno stile che Paolo VI ha mantenuto in tutto il suo pontificato.